Abbiamo un protocollo rafforzato per tutte le attività, come ricordava il professor Rossi, il rettore, che riguardano i cittadini, la parte che riguarda il servizio sanitario, l'assistenza, quindi tante attività fondamentali. Ragioneremo anche sulla ipotesi di emergenza, su tante possibilità dove dobbiamo chiaramente garantire quel coordinamento più forte e più sostanziale dal punto di vista non solo dell'offerta dei livelli essenziali delle prestazioni, ma anche del coordinamento delle attività. Ottimizziamo le risorse, nuovi sistemi aggiuntivi, una qualità di sanità migliore per i nostri cittadini. L'università è centrale in questa sfida, lo è per la didattica, lo è per la ricerca, ma lo è anche in questo caso per l'assistenza. L'emergenza è prevalentemente sui conti, come è noto, sul piano di rientro. Dobbiamo migliorare la sanità, questo è evidente, ma lo dobbiamo migliorare in Italia, il servizio sanitario va migliorato, c'è sempre bisogno di una migliore sanità. Però i livelli di welfare nostro in Italia sono comunque i livelli di welfare robusti. È un problema soprattutto di organizzazione e di efficienza e su quello stiamo lavorando. Dobbiamo essere capaci di dare risposta ai bisogni di salute del cittadino campano, napoletano e nello stesso momento portare avanti i nostri obiettivi di ricerca e di alta formazione. La nostra università ha tanti poli, quindi è un problema della facoltà di medicina, facoltà storica. Si sta lavorando sul territorio casertano per questa struttura, sono ripresi i lavori, abbiamo affidato questi lavori. Occorrerà con la Regione riuscire a portare avanti questo progetto che possa essere terminato nei tempi giusti per dare anche al territorio casertano una struttura sanitaria di alta formazione, un'azienda ospedaliera universitaria digna di questo nome, anche in quel territorio difficile però che ha bisogno di sviluppo.